Di librerie e framework per il C++ ce ne sono tonnellate. La difficoltà è quella di individuarne una che sia stabile nel tempo e autorevole. Beh, le librerie Boost soddisfano a pieno entrambi questi requisiti, tanto da essere state prese in considerazione e associate al nuovo standard C++11. Le potete immaginare come un'estensione, un superpotenziamento delle standard library. Quali sono i requisiti per seguire questa playlist? Beh, un po' di C++ lo dovete sapere usare, sapete, anzi, probabilmente è meglio arrivare qui carrozzati quasi con l'intero mio videocorso. E questo non è però vero in assoluto. Può essere che per alcune librerie di utilizzo piuttosto semplice ce la possiate fare anche con delle conoscenze non così approfondite. Mi rendo anche conto che arrivare qua senza le idee chiare sulla programmazione ad oggetti può rendere le cose più difficili. Anche il presentarsi con le idee chiare sull'utilizzo delle struct e dei puntatori, puntatori a struct, è assolutamente un buon consiglio. Io tenterò, magari andando a selezionare nei primi esempi quelle librerie che meno fanno riferimento a tecniche spinte sull'utilizzo della OP, e di richiamare al momento almeno gli aspetti più importanti dell'utilizzo dei puntatori, di scalare alla portata, non dico proprio di tutti, ma di molti, gli argomenti attrattati. Tenterò anche, sottolineo, tenterò, e certamente non riuscirò a andare molto velocemente, di sviluppare in parallelo una playlist che affronti proprio la programmazione ad oggetti con il C++, perché avevo in mente un'idea proprio di rifondare da zero il corso sul C++. Quello attuale, sapete, è un po' un mix tra C e C++, insomma, non è bello pulito. Inoltre, non parte proprio da 0.0.0.0, nel senso che presuppone che un minimo, minimo di saper programmare, magari in Pascal o in Basic, c'è in effetti come esigenza. Però, avendo aperto molti fronti con tante playlist su argomenti diversi, che spaziano su molti linguaggi e tecnologie, mi rendo conto che a quel punto la parte sulla OP potrebbe arrivare troppo in là nel tempo. Quindi, pensavo di svilupparla come playlist separata. Poi, in qualche modo, dovessi ricominciare da zero il corso sul C++, vedrò di ricucire insieme i vari pezzi. Ma cosa mette sul piatto per noi Boost? Scorriamo la pagina verso il basso a trovare il link che porta all'immancabile documentazione. Per fortuna, la comunità che ruota intorno a queste librerie è immensa e di elevatissima qualità. Di conseguenza, le librerie, a volte, affrontano tematiche talmente specifiche e specialistiche che il nome stesso può dire poco. Per fortuna, qua e là, qualcosa, array, riusciamo a intuire cosa possa contenere questa libreria. Asio, ok, sarà forse, è già pochino più complicatino, Asynchronous, Input-Output, forse, ci sta. Portable, Networking, Including Sockets, Timers, nomi a volte un po' esotici. Atomic, B-Map, B-Directional Maps Library, che saprò che saranno queste librerie per mappe bidirezionali. Qua qualcosa viene svelato, Associated Containers, quindi probabilmente per realizzare delle strutture dati associative, dove l'accesso non avviene per posizione come un vettore, ma in modo associativo ti do, non so, una descrizione, indicando magari al post di un indice, tra parentesi e quadri, una stringa, una chiave di ricerca, e ottengo l'informazione associata. Crono, che non è il nome di un supereroe, ma chiaramente una serie di utilities legati alla gestione di ora, date, eccetera. Ce n'è una marea, conversione, le code routine, calcolo del circular redundancy CRC, Io sto scorrendo, ma ce ne sono, sono solo la lettera F. Ce n'è in particolare per gestire i processi concorrenti e paralleli, i thread, di grafica, di compressione, di esame di strutture dati complesse, come penso i grafi. Qua, è in passant, GIL, generic image, library, graph, matematica, geometria, chi più ne ha, più ne metta. E se, tornando indietro, andate invece a seguire il link introductory material, potrete seguire poi quello sul Who's using boost page, e aprire una di queste categorie, non so, progetti open source che utilizzano boost, e troverete nomi a volte inequivocabilmente importanti, adobe, altri un po' strani, soprattutto per chi non è addentro a livello industriale nella produzione del software. Ma ciascuno di voi penso che scorrendo questa lista potrà riconoscere un'importante ditta che si è guadagnata rispetto nel mondo della comunità degli sviluppatori software. Come sempre faccio, la prima puntata di una playlist la dedico allo scaricamento degli strumenti che servono a sviluppare, e se il tempo lo consente ma dubito un primo esempio che probabilmente invece slitterà al secondo video della playlist. E sarò maledettamente sincero, ho trovato il tutto per niente semplice. Dagli strumenti usati, non certo visuali, e tanti altri indizi, si capisce che queste librerie sono nate e sviluppate, hanno il loro cuore nella comunità degli sviluppatori per Linux, Unix. Molte cose sono date per scontate, e il tipico utente Windows rimane normalmente spaisato. Ho dovuto anche adattare rispetto alla documentazione ai tutorial che ho trovato online, alcuni batch di compilazione e build alle mie esigenze, per cui davvero mi ha impegnato parecchio. e forse non doveste riuscire con la vostra configurazione a ottenere i miei stessi risultati, vi conviene installarvi proprio lo stesso compilatore, lo stesso ambiente di sviluppo, in modo da poter partire intanto da una base comune, poi tentare di capire come adattarlo ai vostri strumenti. Va bene, allora andate subito a puntare il link per lo scaricamento, il download, lo trovate un po' dappertutto, l'attuale versione è la 1.53.0. Ok, scaricatevi lo zip e ci risentiamo tra pochi secondi. Eccolo qui. Boost 1.53.0 Zip. L'installazione non è banalissima perché non c'è semplicemente un setup da lanciare che è fatto in automatico. E va fatta in pratica a seconda del sistema di sviluppo del compilatore e dell'IDE che avete. Io faccio riferimento all'installazione per il CodeBlocks. Probabilmente non è molto diversa quella per il dev. Anzi, mi è venuto in mente che per il dev c'è un repository di pacchetti autoinstallanti con le librerie già compilate però attenzione a far combaciare bene il numero di versione del compilatore eccetera come è indicato comunque nella descrizione del devpack da scaricare. E se andate attenzione che prima dovete per forza registrarvi per poter accedere in dettaglio alle librerie ecco qua lo scaricamento della versione non proprio l'ultimissima ma abbastanza avanzata del Boost 1.46 con il compilatore in versione GCC 4.6 Beh è una gran comodità effettivamente se funziona non sottovalutate però la questione della versione del compilatore non è possibile trasportare facilmente le librerie costruite per una certa versione ad un'altra versione per cui semplifico nel caso voi abbiate una versione di compilatore associata al vostro dev molto diversa da quel GCC 4.6 beh le possibilità che poi il programma compilato linkando questa versione sia fortemente a rischio di stabilità ci sono tutte entriamo un attimo in dettaglio ok qui una scheda descrittiva e in fondo non si vede ora devo rimpicciolire la pagina il link per lo scaricamento se non ricordo male dovrebbe essere sufficiente poi una volta scaricato il dev pack farci sopra un doppio click in ogni caso e dovrebbe aprire in automatico il dev dove col dev plus plus abbiamo la possibilità di aggiungere pacchetti sotto tools dovrebbe essere ecco il package manager e qui avete la possibilità di aggiungere nuovi pacchetti install package andrete a cercarlo su disco quando questo funziona è meraviglioso d'accordo adesso io ritorno al mio percorso di installazione che prevede invece l'utilizzo del code blocks a complicare le cose il fatto che le librerie possono essere costruite per un formato statico oppure dinamico le dll e incrociando ancora tutte queste possibilità con tipologia thread safe cioè predisposta per un uso corretto con i thread oppure no aggiungendo o non aggiungendo componenti aggiuntivi al momento e altre varianti che adesso non ha molto senso richiamare io vi darò un comando di build medio che dovrebbe generarvi il tutto per la maggior parte delle situazioni che troverete ad affrontare e parlando di documentazione penso che una cosa utile è mostrarvi quali sono state le mie fonti anche se la lezione sta diventando lunghetta e probabilmente servirà una seconda puntata anche solo per il discorso installazione degli strumenti ma ci sta insomma è troppo importante questa è la pagina specifica sul wiki legato comunque al code blocks che vi spiega un po' tutto quello che c'è da sapere per l'installazione appunto di boost ecco io seguendo alla lettera le istruzioni che sono qua contenute ho incontrato delle difficoltà e quindi vi proporrò la mia variante un ottimo post su un blog che mi ha chiarito parecchio le idee è questo mi scuso che dovrete se mi ricordo poi sul video direttamente su youtube potrei riuscire mettere i link ma tanto so che poi mi dimenticherò ecco una bellissima spiegazione veramente fatta bene lunga ma completa sono sicuro che qualcuno tra voi troverà più tempo di quello che posso dedicare io nell'andare a spulciare nei meandri di questo testo e potrà suggerirci qualche miglioramento sotto forma di post nei commenti ai video grazie grazie in anticipo e questo è per gli amici che preferiscono utilizzare il visual studio quantomeno c'è una parte che riguarda anche quello build from the visual studio ide come vi dicevo prima però se andate a curiosare sulla documentazione direttamente sul wiki qua si fa chiaramente riferimento a uno strumento di setup automatico boost installer questo letter in realtà arriva fino a 2010 cliccate qui e potrete scaricare dalla pagina del progetto appunto ormai dismesso questo boost pro insomma fino a 2010 siete a posto poi volete che qualcuno non prenda in mano la cosa e sviluppi lo stesso strumento per le versioni successive io penso che sarà quasi una certezza innanzitutto scaricatevi lo zip e rispettiamo la raccomandazione che trovate sulla documentazione inglese di farlo in un percorso con nome di cartelle che non contengono spazi ok procedete poi semplicemente alla decompressione ci metterò un po' perché sono tanti piccoli file e lo sapete è meglio lavorare su disco con pochi file di grosse dimensioni piuttosto che con una molteplicità di piccoli file perché c'è un overhead che va applicato su ogni singolo file che rallenta le operazioni va bene magari salto ok ci siamo questa è la cartella quella che viene indicata nella documentazione come la base diretto di base quello che abbiamo ottenuto è tutta la struttura di cartelle che contengono i sorgenti di queste librerie questo è estremamente interessante perché con le spalle sufficientemente larghe potremmo addirittura andare a curiosare e cercare di capire come veri professionisti dello sviluppo in C++ hanno progettato e realizzato queste meraviglie è singolare il fatto che la maggior parte di loro non avrebbe neppure bisogno di essere compilata perché si tratta di codici di funzioni inline descritte definite direttamente nei file leader per il momento noi molto umilmente ci limiteremo a tentare di senza tentare spero di compilare in formato oggetto e in formato di librerie questi sorgenti in modo da poterli poi semplicemente utilizzare nei nostri progetti codeblocks C++ una premessa importante io mi sto muovendo sotto l'ipotege che avendo installato il codeblocks con anche il compilatore suo mini gv ci sia già quello che serve diversamente prima installatevi codeblocks e in particolare la versione che comprende anche il compilatore mini gv ma secondo me dovreste già essere al punto in cui è possibile iniziare le operazioni di build delle librerie in ogni caso potreste controllare andando a cercare nella cartella di installazione nel mio caso è c programmi x86 codeblocks eccolo qua il mini gv che in particolare contiene il g plus plus compilatore anzi forse sto sbagliando dovrebbe essere quello che sta sotto il gcc la cosa che conta perché poi è quello che viene richiamato nei vari batch di build dipende voi da dove avete installato o chiaramente il codeblocks o il vostro ide andate un po' a cercare per qualcosa che ha nel nome questo mini g mini gv per avere la certezza di essere dotati di tutto quello che serve ok vi ringrazio tantissimo per la pazienza se mi avete seguito fin qui lo so è stato abbastanza noioso perché non tutte le cose potevano interessare tutti ma c'è un piccolo aiuto per tutti in questi 20 minuti il boccone è molto succolento il piatto è ricco e effettivamente bisogna sudarselo spostiamo alla seconda puntata di questa playlist la build vera e propria delle librerie a risentirci presto a risentirci presto